buongiorno a tutti oggi vi presentiamo nella zona poggio franco di bari che offre una buona presenza di servizi un facile accesso alle principali vie di comunicazione in un signorile condominio un comodo appartamento di trebani situato al piano alto l'appartamento è composto da una moderna zona living con un angolo cultura che si apre su un soggiorno open space creando così un ambiente spazioso e luminoso grazie ad un fantastico balcone panoramico dove rilassarsi o trascorrere del tempo all'aperto tornando nel soggiorno troviamo la zona notte con una prima camera da letto un bagno di servizio con lavanderia ed ancora un bellissimo bagno padronale preceduta da una moderna camera da letto la proprietà include un posto auto coperto ed uno scoperto che consentono di parcheggiare comodamente le proprie auto il condominio dispone anche di giardini condominali seguiteci per vedere altri appartamenti alla prossima ciao ci siamo noi da sempre rubino immobiliare il valore dell'esperienza da oltre 40 anni il punto di riferimento per ogni operazione immobiliare info web rubinocase.com rubino immobiliare 40 anni di successi immobiliare il valore dell'epoca